Buongiorno. Pandora è una cooperativa sociale Onlus. La nostra storia inizia nel 1996. Per scoprire di più di noi potete visitare il nostro sito. Oggi siamo qui per il nostro progetto Presenti. Presenti nasce da semplici parole con un grande significato. È un progetto sulla sostenibilità ambientale e un contributo per ridurre la povertà educativa. Insieme al mio team ho sognato di fare un regalo alle famiglie alla città di Milano. Una scatola dono con esperienze da condividere. Occasioni per i bambini fra i 6 e gli 11 anni e le loro famiglie. Vorremmo rivolgere loro un gesto di attenzione e cura. Grazie al vostro aiuto potremo preparare e consegnare 400 scatole. Cosa si nasconde nelle nostre scatole? 5 sorprese da scoprire. Detective al parco, i doni dell'albero, l'ora del tè, il logo shopping sostenibile, gioco e rigioco. Per ogni area abbiamo pensato a carte attività, oggetti particolari, cartoline con curiosità, parole da scoprire e in ogni scatola un quaderno e una matita che si può piantare proprio come un seme. Per consegnare un dono è bello darsi un appuntamento in un luogo speciale. Amiamo i luoghi partecipati che danno valore alla città. Ne abbiamo scelti 4 nella zona della nostra sede di Milano. Distribuiremo 100 scatole per ogni luogo, promuoveremo i nostri eventi, coinvolgeremo tutti per raggiungere le famiglie e raccoglieremo le loro esperienze. Se anche voi come noi siete presenti e credete che la cultura sia bellezza e futuro, aiutateci a realizzare 400 scatole dono. Con il vostro aiuto il progetto presenti può diventare reale e iniziare il suo cammino che lo porterà lontano. Grazie per il vostro contributo e per la vostra condivisione. Presenti!